Oltre che lo usi non è a livello 1 Eh, sta a livello 5 Livello 4, livello 5 Già sei tornato a CD normale Sì, esatto E in più il buff enorme è la move speed No, quella non è questa cazzo È da 30% move speed A livello 1 E aumenta quel livello, questa qua, fino ad arrivare al 50% Per 3 secondi Cioè, quindi dopo che hai tippato da move speed Sì Micchia, sai cosa mi ricorda? Mi ricorda le home guard Il buff delle scarpe Perché tu, mi ricorda, con Ekarim Diobono Tipavi con le home, arrivavi in mezzo alla lane Che avevi tipo 1200 di movement speed E one it up Allora, in pratica per quando arrivi a livello A livello A livello 6 Già il CD e il TP è uguale a quello di prima Eh, esatto Da livello 6 in su ci guadagni, in pratica Più c'è la move speed che è un buff enorme Cioè, quando tippi sull'altra lane con sta move speed Fa un macerano, 3 secondi dura, eh Non dura mezzo secondo È tanto, è tanto Quando fai tpp per flancare in botta è pazzesco In pratica un ghost per 3 secondi Fondamentalmente enorme Ci sta Ecco Molto bene Oh, è da un sacco che non gioco Jinx Anche io da un po' Non giocavo asce E immagino Tony Stark ha detto che piace Mi piace molto la tua voce Grazie A me no Ma dai Non molto, devo dire, no Vabbè Niente, Tony Mi dispiace Oddio, top Nulla Boh, metti Pokémon adesso non è la mia priorità Più che altro Tante altre cose da fare Mi è venuta una voglia Invece giocacce Eh, immagino Eh, ma quando si torna Dopo un bel po' di tempo È bello Mi sono fatto In 20 ore Ho finito la lega In pratica Sì, sì Su Pokémon verde foie È stato il mio primissimo gioco Di Pokémon Nel 2004 Quando ancora costava 60 euro La cartuccia Il mio è stato rossofuoco Poi però Me lo so No Mi sono dato via E ho comprato da Un mio amico verde foie Con il suo game Però è stato È stato morto Ma quanto è good Che la storia Se si è finita E poi ricomincia Cioè, praticamente C'è un altro pezzo Dopo che è finita la lega C'è la fa Tutta quella roba Ah, sì, sì Certo, certo Delle isole Era so good Era molto bello Ah, ma sono Shen Mastering Bottlin Riccardo Soss Si chiama Oh, vabbè Oh, ma What the fuck Ho chiamato da mutare Vai, possiamo uscire Sì C'è il barrier Tu, no? Sì Usa il barrier Che quasi non Oddio, non ho fatto Nate, what the fuck Eh, hai fatto una finale Eh, non ho fatto Vabbè Dai, nemmeno l'asco Sì, sto preso quello Ho pigiato il tasto sbagliato Ho flashato anziché Tirato il barrier Mamma mia, che barbarie Dopo il flash che fa danno E il flash che ti scura Esatto Ma c'hanno tre teleport Questi Sono già pronti al prossimo Allora, al prossimo buff Di il TP Eh, addirittura Non ho preso ancora uno di exp Grazie, Tony, il secondo mese Bentornato Il problema è fixarmi Allora Mi diamo di concentrarci adesso Ma che bot lane smart Ma sono due beduini questi Non c'hanno nemmeno Oggetto da support Tu vorrei busciare Questa è resettare Così anche tu spendi un po' i soldi Se no stiamo svantati Ma io non ho un cazzo da spendere Ho bisogno della goccia poi Ma qualcosa prenderai dai Beh, sì Posso prendermi la perlina di mana Usciamo anche al prossimo Vai Ok, questo ci fa un male cane Se ci ingaggia ci fanno un male cane C'abbiamo 2000 minion Sì, ma Con la Q resetta l'agro questo Quindi Stai attento Ok, poi questa le settiamo Bene, bene Super good Ci siamo Mica senza goccia bruttino Vediamo un po' cosa riesco a fare Ecco Benissimo Ottimo becco fatto io Guarda Nicola Adesso il mana è infinito Praticamente Vabbè dai Purtroppo non abbiamo beccato Un bel team contro Contro cui fare sta bot Beh vabbè C'è stato il primo Una piccola di Fajan Spero adesso recuperiamo Ma sì assolutamente Adesso che Iniziamo a Verci un po' i cd Iniziamo a far male sul serio Ottimo uccello Grazie Me lo dicono spesso Eh immagino Occhio qua Alla cosa Che te slow Da Quello ha preso Oddio Molto espressivo Questo Barri Mamma mia Non pensavo davvero Avesse Strange Occhio Ok abbiamo tirato Un bel po' De schiaffi Intanto che Cercavano a inseguire te Tranquillo Io c'ho mille cose qua Per full arm Vado dai Vediamo Vabbò Me vuole Ciao Amun Urca Guarda come si fa le kill Alle mie spalle Ti ho usato come esca Grazie Sei stato un ottimo esca Grazie Me lo dico in tante Ciao Kalig Degame Un esfruttatore Sì Così che ha fatto Carriere su Twitch E per questo Sono stato punito Ok Kik su Amimo Sì sì Shen Vedrai E poi si attira Una bella R qua Io dirò una R qui Vediamo un po' Dove va? È matto Ah ok Io lo inseguirei Nello spirito Vai 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 È tuo Boom Eh XD Ok Ho preso una kill No c'è il caretto Io non ti aiuterò Guarda qua come pinga Aiutala Jacopo Vado vado Arrivo Fai il support Arrivo Arrivo Eh no però C'è tanta exp qui Ok Lo so Perché sono al 5 Beh però è sempre meglio condividerelo Dai Sono uno sfruttatore C'è warwick in giro Non sapevo nemmeno avessero warwick in team allora Eh passano un po' i sordini ogni tanto i jung Non ho mana io Ok questo tra poco fa Il 6 Ma guarda come ci insegue Eh ma c'è ragione in realtà Ecco A posto Ah c'è warwick comunque Comunque beh io c'ho la ult Questo lo pochiamo un altro po' Facciamo quello che ci pare Io non c'ho mana Però sto per salire di livello Vabbè andiamo back a poi questo Dai Back Beh si sia guardato qui sinceramente Comunque questi sono matti Vai vai il nostro Prego Favorisca pure Non ho mana Ecco Però ho le mani Io devo andare back Non c'ho veramente più un cazzo Adesso è così C'ho il banamune Invitante Suoi ti sparo una ulti No non penso che basti Pucio questa R7 Vp Mastery ADC Per me è ironico Secondo me invece era così entusiasta E la performance So what Nenca ha voluto condividerlo Non bisogna sempre Pensare con malizia E' vero E' vero Hai ragione anche tu Certo che lo so Plox Tranquillo No Il top lane era unstoppable Care vecchio lappo Basta non si avvicinano più Prima avrebbero fatto di tutto Per inseguirci Come cambiano i tempi Come cambiano Sì ma che cazzo è sto Olaf qua Adesso si ammazza pure quello Guarda Ah peccato No Vai vai Sono nostri Mamma mia Quante sberle si è preso Quello WV che gli hai fatto L'ha L'ha smezzato Ah lì che sberle si prende questo tizio Dov'è dammi la visione Dov'è andato Dov'è andato Ah è molto Pien dietro Purtroppo non c'ho la ulti Arriva qualcuno Sì c'è Warwick Dov'è andato Ah dietro di noi Eh la madonna Pure l'iel Eh no perché volevo kaitarlo Però alla fine questo è scappato via Vuoi tu? Ok Eh no Ah basta Mamma mia WP master ADC Comunque Io scriviamo? Ecco ecco L'ho provocao troppo Oddio Ah 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 Non dovevo provocarlo Non gli faccio danni Non dovevo provocarlo Mannaggia colpa tua Vabbè dai Capita Ce l'ho messa tutta Ma niente Quella W è troppo forte Colpa di Jacopo ragazzi Avete visto anche voi Avete visto anche voi Siete testimoni E' lui che l'ha provocato Io non avevo fatto nulla Grazie alex Dei sette mesi Bentornato a un Felix Army E grazie Dionisio Dei sette Dei tredici mesi Bentornato bro Bentornato caro Siamo ancora in tempo Per prendere la T1 Comunque Non proprio Cioè per prendere la torre Dici Per prima Sì Niente play No no Io dicevo la torre Visto che mid la stanno Per prendere i nostri Ma poi non l'han fatto Ecco Lecce Scorciata Vai vai È nostra È nostra Va Bang Tutto Tutto Mamma mia Che bombe ragazzi Che bombe gli sono arrivate Questa Questa è qualcuno Vabbè Perma slow Dov'è Uccellami Ah è stato Scennato È stato protetto Ma guarda come Doggiano questi Comunque Beh non sempre Quando ci riescono Oh Oh Questo è partito Oh Aiutami Oh Calma Botte Botte Ah è tutto Quell'altro Quell'altro Questo è un flashdown Tanto Dico io No Pensavo Flashass Ma di chi sta parlando Mastery Del suo compagno Non lo so Non è molto chiaro Boh Cazzo Ma si Uccellami ragazzi È gergo Grazie Se non conoscete Il linguaggio Specifico Il vocabolario Adatto Molto importante Yes Oh Liscio Malamune Sta 5 3 70 Jacopo Invece 4 52 2 2 2 2 E' vero se riusciamo a fa qualcosa in mid Stanno andando a rompere il cazzo in bot però effettivamente Eh eh ah eh ah Ecco Sto arrivando anch'io È finita per noi Non si svolge più Ahahhh Ma Unita la volta Nice I E ADC Ecco Giammato Giammato Un inizio ha stato scelto Oddio Corra, corre Lo vengo a fornire supporto Vai, vai Buffete No, 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 no Accidento Ecco qua Fatto, fatto La botta del fastidio Era un fan mimetizzato Jacopo Era anche il più bravo in questo game Incredibile Ecco qua GG Don't run, noob Ok Non mi faccia faccia Se ne hai il coraggio Stai fermi immobile Avanti a Mastery Se ne hai il coraggio Mini range Un attacco a testa Solo i nabbi Caintano Ecco Tuck Uh, 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 uh Penso io non c'ho più mana Non c'ho più mana Ecco Mastry è un hinting continuo comunque Quell'altro è 1-12 Ma what the fuck Ma cosa Sì, ma non è colpa sua No Cioè, siamo noi che corriamo via Anzi che affrontarlo come dei veri uomini Come vi permettete di kaitare Anche io, anch'io 1-12 Vai, vai Ecco il missile Poco prima l'avrei ucciso Non avesse recuperato vita Questo c'è Mercury No, non è riuscito No, nessuno c'è Mercury Non deve tre secondi e mezzo Sto stun Ah, noi c'ha C'ha la tenacity Sì, c'ha la tenacity Uh, non ci fosse stato il minion davanti Comunque si è staccata a instant La mana Moon e su Jinx È bellissima Ecco Non ci si muove più Vai Spara, spara Oh Oddio, ma quanta gente mi ha spinto Eh, pari Nice, ma staria a DC, ragazzi Carico Che meraviglia Boom Esploso Devastante Comunque 2-13 Povero Shem Ho registrato oggi pomeriggio il video Infatti, ho iniziato bene Livello 1 Quello in gauge cattivo E poi basta Mi ha fatto meno danni di tutti Beh, non ha mai dovuto gancare Effettivamente A che ora stacchi perché vorrei rancare Stasera ho paura Stacco 11 e mezza Ok Che tiriamo fuori adesso Che tiriamo fuori adesso Signor Tegame Hai sentito Hai sentito l'ultimo dissing di Kerenis No, non l'ho sentito Ce ne sono già troppi di dissing In core Cioè Non ho avuto così tanti Che me lo son perso Mi dispiace